salve a tutti ragazzi bentornati o benvenuti sul mio canale benvenuti in questo nuovo video continuiamo la nostra avventura ci troviamo ormai alle fasi finali di questa nostra prima stagione ci mancano cinque gran premi e veniamo da un gran premio di singapore in cui siamo riusciti con entrambi i piloti a entrare nella zona punti siamo stati anche un po' penalizzati dalla gestione particolare che ha il gioco della safety car tra parentesi speriamo che riescano a sistemarla con questa paccia che tanto aspettiamo e comunque veniamo insomma da un appunto gran premio positivo che ha risollevato un pochettino il morale della squadra perché eravamo un pochettino in crisi quindi il prossimo gran premio in giappone a suzuka tra quattro giorni quindi veramente faremo in tempo a fare nulla perché insomma veramente molto poco il tempo tra un gran premio e l'altro però andiamoci a vedere le mail allora questo appena il debriefing dice la terminatoria mostra un valore di raffreddamento freni dell'autunno che potrebbe essere migliorato rispetto alla griglia ok perché a un 52,46 per cento mentre dovremmo aumentare la difesa di kevin che ferma al 70 per assurdo insomma che c'è la più alta e vabbè questa è la panoramica appunto del gran premio di singapore questo me l'ho scordato la fiducia nei confronti è cresciuta vabbè perché comunque siamo andati abbastanza bene con entrambi i piloti allora vediamo un attimo il contratto con gary gannon star pescadere ho notato che il nostro contratto con gary gannon scadrà tra tre mesi qui allegro qui allegato puoi trovare il contratto attuale valuta se proporre un rinnovo se cominciare a cercare un sostituto accedi al link del profilo di gary gannon per se vuoi rinegoziare il suo contratto in alternativa consultare con il nostro reparto scouting per considerare l'ingaggio di un nuovo membro del personale ti auguro una buona giornata allora questo dovrebbe essere l'ingegnere di pista di mic mi ricordo posizione ingegnere di pista lunghezza e contratto una stagione prende sessantamila si infatti di mic ottima affinità quindi direi che magari potremmo anche contratto lo allunghiamo rinnova contratto ok vediamo un attimino allora lunghezza contratto quanti a sto tipo facciamo due stagioni dai lo stipendio potrebbe andar bene vai che offri contratto vediamo un po vediamo un po cosa ci dice dai vediamo questa proposta cerchiamo di non andare a scombustolare anche i rapporti che ci sono tra gli ingegneri di pista e i piloti sono è un casino già andiamo non proprio al top però perlomeno alcuni legami appunto lasciamoli solidi allora altro contratto in scadenza simone resta capo tecnico anche lui 240 mila dollari a stagione a mese ma coglioni beato lui di nuovo contrattuale c'è un punto sviluppo secondo me c'erano alcuni che non li ho mai messi cioè non mi scordo di metterli allora andiamo su andiamo su telaio ok così e contratto rinnova contratto anche lui due stagioni stipendio quello che c'è da lui ok e vediamo insomma cose la cosa ci intera ormai penso che siano un po tutti in scadenza scadenza con mic che a scadrà tra tre mesi allora mic ragazzi come avete anche giustamente detto voi non è il caso di tenerlo come terzo pilota perché ovviamente non è più diciamo giovanissimo quindi stiamo spendendo tanto diamogli fiducia dai alla fine l'ultima gara si è dimostrato comunque abbastanza aggressivo bello determinato se riesce a sistemare ecco questi problemini di performance che c'è in alcune circostanze sarebbe meglio insomma quindi dai diamogli fiducia speriamo che che possa andare bene per il prossimo la prossima stagione allora contratto anche qui lo rinnoviamo per una sola stagione però te lascio così te lascio così vediamo un po che altro ci abbiamo fiducia consiglio complimenti ok dovremmo aspettarci tra due mesi per quanto ci terrà appunto il resoconto penso è una volta che è terminata la stagione resoconto finanziario va bene resoconto mensile sviluppo auto nell'ultimo mese abbiamo monitorato le prestazioni in piesta dell'auto 1 in rapporto alle monoposte avversari da quanto abbiamo visto potremmo migliorare l'auto in termini di raffreddamento freni vabbè questo ce l'aveva già detto di segreti potrò trovare un rapporto completo va bene siamo praticamente tutti scarsi tranne che per le bassa velocità in cui siamo settimi il resto siamo calati proprio di brutto proprio di brutto va bene allora andiamo al prossimo dato ormai siamo ai fini della stagione quindi ormai c'è poco da sviluppare giusto se si vogliono fare delle nuovi di nuovi componenti per la prossima stagione abbiamo alcuni in cantiere ancora che sicuramente ci porteremo anche per la prossima spero ok questa è l'anteprima del gran piano nel giappone anche qua previsioni che era nuvoloso ok speriamo bene perché in giappone quando piove piovede brutto quindi potrebbe esserci ovviamente favorevoli a noi visto insomma la situazione infatti ci piove di venerdì sabato niente domenica nuvolosa quindi già inizia a piovere nelle prove libere questo potrebbe essere un problema per noi allora vediamo un attimo obiettivo qualifiche per lo meno raggiungi q2 direi di mettercelo con entrambi i piroti se poi riuscissimo addirittura entra in q3 ma vedo molto ma molto difficile non sarebbe male però con un pilota solo poi vediamo come va mentre l'obiettivo di gara posizione finale direi si 12 o più mentre slot garanzia qui serie di posizione in qualifica facciamo dalla tredicesima sì dai speriamo che ce la facciamo conferma modifica con un solo pilota perché meglio sta un pochettino più tranquilli allora direi che abbiamo fatto tutto ragazzi le anteprime le abbiamo sistemate e allora un attimo velocemente i componenti delle auto e dovremmo essere comunque a posto qui ce ne avremmo in verità ce ne abbiamo due però tanto ormai spera che ne andiamo a spaccare proprio il telaio dannazione pure qua ce ne abbiamo due cioè non c'è niente praticamente scusate la lettura intera non l'abbiamo preso un altro possibile perché mi sa che ne stiamo creando uno quindi mi sono detto va bene è inutile che li facciamo allora aspettate un attimo perché se no mi perdo no strutture no auto sviluppo componenti progetti in corso sì infatti abbiamo una lettura anteriore che termina tra 17 giorni e l'altro che è il sottoscocca tra 19 però il problema è che se questa nella gara vanno a sfasciare qualcosa non abbiamo i pezzi di ricambio quindi sono costretto a doverli se mi ricordo come si fa magazzino li dobbiamo fare tipo in maniera ultra rapida mi serve proprio in emergenza e lo so fanno due paghiamo sto sta cifra però ci servono e altra cosa che ci serve il telaio giusto che non si sa mai non si sa mai magari che del telaio ne possiamo pregare uno solo anzi no fammi due dai costa pure proprio vai spendiamo i due sordi saranno contentissimi proprio va bene allora andiamo al gran premio del giappone tracciato ovviamente storico particolare un tracciato unico e molto amato da tutti gli appassionati che ci ospiterà in questo weekend ci attendono brividi e velocità nel gran premio del giappone questo weekend i piloti si affronteranno sulle curve insidiose di suzuka dall'inconfondibile conformazione a otto qui sarà la deportanza ad alte velocità a decidere quali squadre saliranno sul podio proprio le caratteristiche che noi non abbiamo è stata una stagione eccellente per la red bull presto scopriremo se si concluderà con la vittoria del titolo perché ancora in bilico dovremmo affrontare una formidabile ferrari che non si arrenderà senza combattere bene non perdiamo tempo si comincia non ho fatto caso alla classifica effettivamente per sapere come stavano messi ma a quanto pare sono ancora in lotta e allora questo già dice pioggia intensa quindi già allora vediamo un attimo l'assetto dell'auto sui rettilini dovremmo andare a scaricare un po' facciamo così e poi vediamo lasciamolo così e poi vediamo mescole perlomeno per il momento le rosse e poi vediamo perché dice pioggia intensa però non so se sta già piovendo oppure deve ancora incominciare qui allora spostiamo anche qua si spostiamo un po' cose poi vediamo se effettivamente la direzione è quella corretta o meno così poi poi vediamo allora andiamo ragazzi in prova libera no aspetta aspetta prima delle prove libera come stiamo messi in componenti esterni 59 42 74 all'herz non proprio al top sì quella di micca sta decisamente meglio di quella di kevin vabbè poi vediamo se ci da noie poi prima della fp3 eventualmente cambiamo qualcosa allora per il momento non piove già una cosa ottima e non mi sembra che la faccia qui quindi forse nella prova libera due quindi dobbiamo assolutamente approfittarne ragazzi facciamo uscire la macchina via le terme coperte e andiamo a vedere il nostro primo giro con kevin come sempre lo affrontiamo on board primo settore che bisogna averci un bel feeling è tutta una serie di curve a modi di serpentone dopo di che si passa sotto al ponte tornantino che qua dovremmo avere una buona trazione dopo che c'è tutta una serie di curve in appoggio questa doppia a sinistra poi il rettilineo che ci porta alla 130 r e poi c'è la chicane che porta sul rettilineo eccola qua questa chicane e via di nuovo il rettilineo di partenza ok possiamo anche velocizzare un po vediamo un po come la situazione come sempre primi giri dove andiamo ovviamente a scoprire il setup ci daranno i feedback a riguardo sperando che abbiamo già azzeccato qualcosina già da subito che insomma andrebbe a semplificare non poco la la questione intanto abbiamo kevin in ottava e schumacher in sesta addirittura attenzione mic col fatto che è arrivata la busta con il rinnovo del contratto se ne è un attimo ingallozzito eh oppure insomma kevin ha componenti si non so proprio al top al 100% però non è che sto proprio così usurati abbiamo azzeccato qualcosina in più con il setup ora sono già pochettino più vicini separati veramente da da poco da 33 centesimi adesso quindi comunque schumacher è davanti a kevin vediamo un attimo se ci arrivano già i primi feedback per quanto riguarda il meteo sembra non non cambiare andiamo un attimo ha da qualcosa che non va quindi abbiamo sbagliato qualcosa con kevin tra l'altro non gli ho manco detto di far comunque rientrando di far più giri ma insomma va benissimo così non è che non ce l'ha detto mi sa mi sa che non ci ha dato feedback forse non è riuscito a fa tutti e cinque i cosi allora qui abbiamo un bel grande male male bene male ottimo quindi iniziamo proprio alla grandissima allora quindi i rettilinei dobbiamo più che altro caricare la vettura direi poi cerchiamo di portarci la vettura anteriore come stiamo adesso e mentre la stabilità è infrenata proviamo a spostarci la più verso destra poi vediamo se ovviamente la direzione corretta allora apri la sterzata un attimo ok proviamo un attimo così mentre la trazione che stiamo su bene ma non benissimo facciamo così e lasciamo così anche il l'ha detto in anteriore perché stiamo su grande però sapete c'è quel tricchetto in più che potrebbe darci il perfetto già da subito che non sarebbe affatto male allora questo con possiamo fare qualche altro giro no però si dice sì vediamo un po mentre scema che non c'è a dare per tutti e cinque i feedback infatti è grande male male proprio male malissimo allora quindi sovrasterzo qua per il momento pare che l'abbiamo azzecchiato lasciamolo così mentre per quanto riguarda i rettilinei andiamo a caricare la vettura questa cerchiamo di riportarla come era prima la sterzata un po più verso destra e la trazione uguale credo che ci serva comunque della buona trazione in uscita soprattutto del tornante ok proviamo così aumentiamo ancora qualche giro anche lui è una serie cina 16 giri vediamo se riesce magari entro a sti giro a darceli tutti e cinque i feedback che avviene ci ha riuscito mic invece credo che sia andare un filino più veloce però insomma se ci desse tutti i parametri che necessitiamo non sarebbe male dai riportiamolo subito in pista certo avrei voluto più usare le gomme 9 tanto alla fine della sessione restituiamo due due sette di gomme quindi restituirne uno nuovo non avrebbe senso o fanno in fretta o le ruote blocchiate o tu cazzo me la sbatte ora guardiamo bene la casa boom ma non so se ho sfondato pure la lettone ho sfondato la lettone o forse no così l'occhio non sembrerebbe vabbè vediamo dai che cavolo mic che già stava a parlare che insomma stava andando bene tutto quanto già è andato tutto dannazione dai 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 il meteo meteo sereno dai non c'è assolutamente minaccia di pioggia per il momento credo che ci sia però nella fp2 e questo potrebbe essere un problema perché poi il setup insomma vediamo se riusciamo a farlo a farlo bene perché per il momento la la cara non sembra bagnata porta nuvuroso ma non sembra essere bagnata e si vede come stanno al 26 per cento stavo un po al limite si lo sa che viene tranquillo vediamo se riescono a finire questi giri e poi eventualmente li riusciamo a ributtarli dentro per pochino ci montiamo il sette nuovo al 20 per cento 19 certo così aumentiamo anche la possibilità che facciano danni però è che è blocchiato infatti do dritto qualcuno finisce largo attacca a farli rientrare assolutamente qua ma sto rischia io a queste come usirate che è stato un incidente in pista ma che cazzo ha fatto a rotale torre l'abbè sbagliato io sto giro savo riuscisse a starci per bene dentro però a quanto pare non è stato così allora era l'alettone anteriore per fortuna l'avemmo fatti hai visto corsena di poi vai sostituisci e allora setup qui come stiamo grande bene perfetto addirittura dobbiamo sistemare queste frenate che stiamo veramente in maniera pessima quindi qua ributtiamole più verso sinistra ok e la trazione la trazione un clic così e vediamo un attimo ok cambio pneumatici ma penso che non ce la farà manca talmente poco che qualcuno è andato largo mentre schumacher come stiamo messi un 68 per cento però di trazione ancora stiamo messi malissimo proviamo un clic in più e dovremmo ovviamente cercare di migliorare pure quest'altri quindi qua magari la carichiamo ancora un po e qua così mentre per quanto riguarda la sterzata portiamo un po più verso sinistra ok proviamo così ma tanto non ce la faremo non fanno fanno tutte le modifiche per farli rientrare quindi per il momento ci troveremo eventualmente cazzo è un allargato lettore sta dentro i box ci ritroveremo comunque già con le modifiche fatte di forse qualche minutino proprio al volo vediamo se riescono ma veramente giusto così penso ci sia un incidente incidente edizionata va bene ma giusto che fallo uscire questi pochissimi secondi ok sessione terminata quindi per il momento terminiamo con magnus che è riuscito comunque a passare schumacher quindi in quindicesima e sedicesima posizione c'è una parità per quanto riguarda sia le clerche che verstappen adesso sicuramente dei cambi di componenti e zunata effetto quindi avranno penalità in griglia buona per noi perché magari se riusciamo stiamo là vicino qualche posizione la guadagniamo allora abbiamo detto e niente le modifiche al setup le abbiamo fatte quindi andiamo direttamente in prova libera due ragazzi e vediamo se effettivamente già inizia bagnato o meno ok per ora no ci aspettiamo della pioggia tra breve quindi va in pista tipo da subito proprio sfruttiamo assolutamente subito il periodo asciutto perché tra un po inizia a bagnarsi proprio in fortuna dalla metà poi dovrebbe dovrebbe migliorare però non so se effettivamente loro continuano a girare anche sotto la pioggia oppure no però forse sì perché comunque aumenti la percentuale di conoscenza del tracciato ma anche pensi componenti del setup insomma quindi continuiamo a far a farli girare dai 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 30 per cento tra pochino ma già già sta piovendo sì direi proprio di sì allora occhio ai millimetri di acqua giusto per vedere effettivamente com'è la situazione beh dovrebbe stare a piovere sì non aumenta in verità quindi per ora è asciutto non mi sembra che stia piovendo se piove da qualche altra parte non lo so per quattro minuti 3 c'è il 55 per cento di probabilità che lo faccia noi intanto continuiamo a girare eccola direi che ha iniziato sì sì direi che ha proprio iniziato vediamo se aumenta velocemente o meno perché altro perché gli manca poco per vabbè fammoli rientrare vai 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 rientra per forza sì 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 dai non voglio rischiare già non avevo usato uno da lettone non voglio assolutamente rischiare allora vediamo un po' già dato qualche feedback a riguardo un grande bene qua non lo sappiamo di trazione ancora potremmo aumentare verso destra ok lasciamolo così pneumatici intermedi tanto comunque non li utilizzeremo penso per la per la gara mic invece abbiamo un grande due grandi un perfetto un bene qua ancora non siamo in grado di avere un parametro quindi sta sterzata si dobbiamo cercare di migliorarci vediamo un attimino proviamo così a meno che qua non va a dover mettere più verso destra vediamo un attimo proviamo così anche lui gomme intermedie magari facciamo girare un po di più e via dai facciamo queste modifiche ma non so se riusciamo ad uscire vabbè l'acqua c'è sta pure aumentando ma sa che le intermedie non c'è bastano ma do 5 aspetta per fortuna 5 30 e da da full wet altro che intermedie intermedie 5 36 5 60 70 stava in giro di luglio praticamente aspetta altro che intermedie vede full wet proprio dai riconfigura full wet e via si è usciti pure lui che è full wet direi proprio di sì sì vai torna in pista torna in pista e via assolutamente insomma 5 70 vabbè mo sta piano piano calando anzi no aumenta 6 mili che succede ha smesso il problema risulta così provvisamente ma c'è un sacco di acqua quindi per il momento di full wet fatto prendo un corpo perché ho visto che sarà stoppato ho detto questo mandato a muro 7 60 accident sono molti diversi audio addirittura tensione che cosa è successo ce lo fa vedere noi chi è coinvolto nell'incidente e che ne so vediamo qui possiamo vedere due williams e una mclaren e un po il tornantino si prendono di loro attenzione i box non saranno assolutamente contenti di quello che è successo sia alban che latiti si sono presi 7 mm addirittura era salita un piano piano sta scendendo in chiesa la va a buttare giù di acqua siamo al 70 70 per cento che passa a ricominciare a piave sta scendendo abbastanza velocemente però c'è comunque tanta mi pare che sotto il 4 per cento e dio dov'era qua si 4 per cento di 4 mm da 1 a 4 sono le intermedie chi è che è andato largo non lo so science ci interessa ecco il fatto che stiamo comunque andando bastantino magnus e per poco vi auguro e mic ma voi siete scemi ma parca trota l'hai visto in diretta per fortuna sono riuscito ad evitarsi mamma mia è che non ha fatto danni per fortuna o 3 e 30 sarebbe da intermedia adesso magari girate ancora sì l'acqua ma sta calando abbastanza mancano pure i dieci minuti caspita fatto veramente poco eh il fatto che girano più lenti feedback qui non ne abbiamo come mi sembra mi dà buone sensazioni però niente di che vabbè sta comunque rientrando vediamo mic c'è stato un bloccaggio qui e niente ha pure blocchiato vediamo un po che andrà a sbattere nuovamente niente sempre il tornantino va al bloccaggio era l'ultima cosa di cui aveva bisogno per fortuna c'è una buona linea la via di fuga che ci permette di evitare di andare a sbattere allora qualcosina l'abbiamo sistemata ma non proprio benissimo bene ma non benissimo miglioriamo la stabilità in frenata per forza ancora più verso sinistra e sta sterzata che non so dove dove spostarla spostiamo ancora un po tutto a sinistra e vediamo così questa è il problema che allora aspettate devo mettere questa così e questa la devo che così stiamo come prima ma che cazzo la faccio allora questa deve andare più verso destra è l'unica se no non posso muovere la stabilità di frenata che la sterzata si muove solo con la si dovrebbe muovere anche la trazione eccetera però visto che abbiamo ripreso su grande cerchiamo di non muoverla volevo semplicemente giochicchiare un po questi parametri e magari vedete perché questo dovrà tipo fa così e con queste poi avvicinarle o allontanarle proviamo così e vediamo dai abbiamo sposto sbostato un po di roba ma spero ne possa valere la pena per guadagnare qualche altro punto percentuale allora dovrebbe mancare poco in verità io rimonto questa ma mancano sei minuti non penso che riescano a sistemare la la vittura mi che sta ancora a gira rientra un attimo basta che tanto di acqua non ce ne sta più allargare i traiettori vuol dire qualcosa perché era il lungo che aveva fatto prima allora amiche invece abbiamo perso in stabilità in frenata attenzione si è visto che c'era qualche problemina quindi anche qui dobbiamo cercare di ribattere tutto verso sinistra ributtare tutto verso sinistra ok lasciamolo così e vediamo e vabbè senza che cambiamo le gomme tanto alla finestre queste qua ce li rimandiamo indietro ma tanto non facciamo in tempo manco a fare le varie correzioni che finisce la la sessione si giusto che possiamo rimandare in pista ma tanto che c'è pure come usate ma tanto manca un minuto niente di che allora sessione terminata come conoscenza del traccio abbiamo un sessantadue per cento e un sessantadue per cento anche per shome kevin doveva rientrare non lo so perché fa un altro giro va bene terminiamo in tredicesima e sedicesima che si è un attimo ripreso con il setup più ad hoc mentre schumacher comunque sta lì stiamo comunque nella parte bassa purtroppo della nuova giornata di formula 1 le prove si avviano alla conclusione e ci attendono le qualifiche ieri abbiamo avuto un interessante assaggio di ciò che ci attende ottimisti vediamo un po' si è fatta spasmodica si prospetta una sessione di qualifiche particolarmente frenetica solo i migliori i piloti più costanti possono puntare a una posizione favorevole in griglia chi di loro darà il meglio bene tutto pronto finalmente stiamo per ripartire ok pista che comunque asciutta ovviamente ci sono prima le prove libere 3 allora le modifiche le abbiamo fatte e si andiamo in prove libera 3 e però come come butterei dentro una bianca in verità perché devono devono girare tanto una ce l'abbiamo comunque da utilizzare eventualmente in gara e ci teniamo una una gialla che non so se ce la teniamo effettivamente oppure la restituiamo non ho ancora ben capito quanti e quali rimandiamo indietro alla pirelli poi alla fine della sessione quindi vediamo per il momento utilizziamo la la bianca è che alla già qualcuno è andato fuori che è in che cazzo è successo bloccaggio forse per per che vin qualcuno ha allargato la traiettoria e si va bene importante che non faccia danni allora di pioggia non ce n'è tutto bel sole che splende non dovrebbe darci problemi loro dovrebbero comunque girare perché dobbiamo in tasta percentuale che stanno 65 non è proprio altissime ci abbiamo solo sta sessione per farlo andiamo un po con che gomme è stato un incidente c'è una che sta a posto loro stanno in rosso e giallo e bianca anche insomma quindi siamo un po miste insomma sempre il tornantino e giro dritto ovviamente e questo è lì ha sfasciato pure la lettone a stavolta mentre i nostri per fortuna sono riusciti alcune volte a a girare quindi evitare l'impatto con le barriere per ora kevin è diciottesimo e schermagher sedicesimo eh attenzione non siamo ovviamente vabbè casdì c'è un'altra macchina ci sta stiamo con le come bianche ci sta che altro succede un altro incidente che è successo c'è un incidente rassi la ricorda unio sape il tornantino sape il tornantino sai qua in gara succederà il panico blocchiaggio e poi smatte uguale paru paru proprio dai 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 sono un po lente a darci feedback a sto giro eh sono un po lente kevin sta al 4 su 5 adesso c'è arrivato il crash maker vediamo un attimo ottime sensazioni boh occhio che stiamo dietro a un alfa tauri rischiamo di tamponare allora lo facciamo rientrare per il momento è inutile che gira così vediamo effettivamente cosa non va e aspettiamo che il che ci dia delle eh del feedback allora vediamo un po stiamo all'86 per cento dovremo giochicchiare per tirar su magari la la trazione magari con click in più esagerato oddio proviamo proviamo così e la stabilità sempre sta cavolo di stabilità portiamola ancora più più verso sinistra più di così veramente non saprei come muovermi ok gomme comunque di nuovo così altri 20 giri e via facciamo queste regolazioni e lo portiamo fuori se mic si spiega a darci un feedback non ci rispiacerebbe eccolo sta adesso 5 su 5 ed è ma che ci dice se ci dice qualcosa quanto pare no mic niente sta rientra ai box tu ritorna in pista no non ha fatto 5 su 5 ma non ci dice niente sta ancazzato mic che te devo dire vabbè allora uguale comunque sempre sulla stabilità e la trazione quindi anche te come kevin clicca in più sulla trazione e cerchiamo di giochicchiare con la stabilità la spostiamo più verso sinistra perché la stizzata l'abbiamo centrata eppure bene dai facciamo così altri 20 giri modifiche e lo facciamo riuscire sperando che abbia azzeccato la ovviamente la combinazione giusta affetto l'errore in curva 1 dai che mancano 23 minuti ok di nuovo fuori i nostri ragazzi comunque sedicesima e diciassettesima posizione kevin è riuscito a migliorarsi ma schermak era 15 millesimi insomma quindi stiamo lì stiamo lì aspettiamo ovviamente come sempre il loro feedback che dovrebbe forse arrivare prima da kevin che è uscito decisamente prima rispetto a schumaker bandiera gialla per un attimo qualcuno finisce largo peres dai 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 mancano quasi 10 minuti al termine percentuali che schumaker è arrivata sopra al 90% e Kevin ci arriverà adesso quanto riguarda la conoscenza del tracciato e sul feedback si kevin sta a 4 su 5 schumaker è ancora 2 di 5 dai 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 forse potevo mettere un'altra gomba rossa vabbè giusto per usare sempre la stessa vediamo se riescono perlomeno entro fine sessione molto più lente ripeto alcune volte facevano molto più in fretta a darci feedback a riguardo mentre a sto giro veramente ci stanno mettendo un casino o non ce lo danno tipo adesso perché Kevin è arrivato a 5 su 5 non ci da niente fine della sessione vediamo un paschumaker 4 su 5 quindi lui non ci darà feedback a riguardo vabbè non lo sapremo mai allora terminiamo in sedicesima e diciassettesima però stavamo facendo comunque un'altra tipologia di lavoro fiducia 7 su 90% quindi siamo riusciti ad aumentarlo schumaker purtroppo non ci da feedback quindi abbiamo fatto le stesse modifiche per quanto riguarda entrambi i piloti quindi credo che entrambi siamo al 90% però vabbè già meglio di prima insomma più di così alla fine non sono riuscito ad ottenere vediamo un attimo qui lui ci da un perfetto perfetto mazza con mic saremmo comunque arrivati decisamente più alti del 90% abbiamo 4 perfetto su 5 quindi forza stabilità qualcosina l'abbiamo centrata vabbè magari ce lo dà poi una volta che facciamo le qualifiche magari ci dà feedback a riguardo allora ragazzi andiamo in qualifica iniziamo a fare effettivamente sul sepio adesso cerchiamo di portare a casa ovviamente un buon risultato vediamo il meteo che non dovrebbe insomma perlomeno per ora minacciare pioggia quindi abbiamo soltanto due gomme rosse perché abbiamo soltanto due gomme rosse? perché ci siamo a portare due gialle abbiamo delle gomme rosse di meno e che facciamo? passiamo il taglio a gialla ma vedo molto difficile molto difficile e vabbè un giro lo facciamo con la rossa sicuro entrambi stiamo così? eh sì un giro lo facciamo sicuro così poi vediamo se loro passano effettivamente il taglio con la gialla forse sarebbe più sensato passarlo nel Q1 con la gialla che abbiamo forse migliore possibilità però non avevo mai usata la gialla nelle prove libere quindi non sappiamo che giri e che tempi faccia quindi boh è un po' rischiosa o la buttiamo dentro o li facciamo fare un giro e vediamo come va io direi così eh tanto comunque usarle tutte nella gara la vedo difficile quindi eh dai buttiamo in pista intanto Kevin ovviamente lo andremo a seguire come di consueto un board e mandiamo dentro anche i mic un pochettino di distacco tra tra di loro entrambi con la videata ovviamente dei tempi il primo a fare il giro sarà appunto Kevin e vediamo non dovremmo avere noie visto che comunque nella prima parte nessuno sta sta uscendo stiamo un po' facendo da da apripista per cercare di gommare un po' anche appunto la pista che con la pioggia che c'è stata nelle sessioni scorse non è non è proprio gommata proprio bassa quindi cerchiamo un pochettino di far bene dai proviamo anche questa gomma gialla ripeto se riuscissimo a passare il taglio con questa gomma perlomeno un set ce lo ce lo conserviamo e non sarebbe assolutamente male come cosa quindi inizia il giro di Kevin vediamo l'approccio in curva 1 Mick è un po' più arretrato appena fatto la 130R mentre Kevin è già nel primo settore c'è una McLaren davanti vediamo se ci dà noia si scansa all'ultimo veramente in staccata siamo riusciti a passarlo ovviamente il settore fucsia per Kevin che è l'unico che sta facendo il giro ha iniziato anche Mick 32,4 molto più lento Mick rispetto a Kevin non so se magari lui ha trovato qualcuno nel in una posizione più difficile mentre Kevin sta andando alla conclusione del giro ultima Sheikhan e termina per il momento con il miglior tempo 1,35 c'è il fucsia di Schumacher nel settore centrale anche lui ultima curva va sul traguardo e migliora di ben due decimi per il momento il tempo di Kevin bravo Mick bravo Mick quindi entrambi ora torneranno ai box vediamo quelli che sono usciti con che gomme sono entrambi con le rosse è un azzardo il nostro ora noi vediamo un po' com'è la situazione ma comunque un giro eventualmente con la rossa in questa fase lo dovremmo lo dovremmo fare se andiamo ovviamente a scalare troppo andiamo subito a montare in modo da stare pronti a farli uscire e vediamo appunto i tempi che faranno gli altri ho anche un'occhiata qui allora sono tutti con gomma rossa ovviamente c'è ancora metà schieramento che deve ancora fare il giro per il momento noi siamo in sesta e nona scusate un attimo ma Mick ne aveva fatto meglio di Kevin come ha fatto a scala così tanto scusa ma lo ricordo proprio come ha fatto Mick cioè Kevin comunque a stare super le ore cioè sta cosa non ho capito che è successo scusa Mick aveva fatto il giro aveva fatto pure meglio aveva detto che aveva migliorato i due decimi il tempo di Magnussen quindi lui sarebbe stato comunque avanti o me sono sbagliato perché a quanto pare mi avete a pensare a questo scusa un attimo che caspita ho visto io cronagia giri allora scimara che ha fatto 1.37 Kevin ah 1.35 ok ok niente mi sono confuso io ero convintissimo che avesse fatto perché aveva fatto il fuxia nel settore centrale e nell'ultimo però forse col fatto che aveva fatto giallo nel primo settore mi sono confuso non so ero convinto che avesse migliorato lui la posizione quindi niente Mick complimenti rimandati perché l'hai fatto bene mero confuso allora Mick direi che lo facciamo riuscire assolutamente torno in gara con gomma rossa e facciamo usci anche Kevin ovviamente stavolta andiamo a seguirci Mick on board vediamo se l'abbiamo fatto uscire nello si dovrebbe andar bene ovviamente tabella di tempi per entrambi eh di sì tempi giusto passano vetture che stanno terminando lasciamo lì andare in modo da averci comunque pista libera assolutamente il nostro era ovviamente un azzardo quello con le come gialle pensavo magari fossimo più veloci ma a quanto pare non era così speravo anche che altri seguissero la nostra diciamo strategia ma non l'è stata comunque vediamo Mick ora giro lanciato per lui ora veramente si fa sul serio prima curva vediamo a vederci il primo settore non dovrebbe avere nessuno davanti anzi no c'è una vettura che è più lenta vediamo se ci disturba riusciamo a a niente ci disturba c'era l'entra Williams che si sposta adesso ma sicuramente abbiamo perso 31.8 il primo settore vediamo Kevin che arriva 31.9 addirittura più lento vediamo Mick ora nel settore centrale forse forse abbiamo tempo per farli riuscire perde nel settore centrale 38.4 rispetto anche alla sua sua best con le gialle arrivano ad andare addirittura più veloci va a chiudere il tempo sali in sedicesima posizione veramente sul filo ma non basta arriva Kevin tanto sul traguardo ultima chicane migliora comunque il settore centrale sale per il momento in quindicesima posizione e lui il primo degli esclusi portando Schumacher sempre più indietro forse non gliela faccio a farli girare 1.20 no no niente sono scesi tutti niente quindi Mick è fuori Kevin in quindicesima posizione e vediamo un po' quanto abbiamo allora Mick comunque non ce la fa dovrebbero migliorarsi di fette il strollo e Latifi Latifi per il momento è a 33 millesimi da noi vediamo un attimino Latifi sarà il terzo a fare il giro cioè a concludere il giro attenzione prende una bandiera Jao Kahn Schumacher prende bandiera Latifi prende bandiera e fa lo stesso tempo di Kevin 0-0-0 praticamente prende bandiera no Albon ci fotte la posizione all'ultimo da nazione ero concentrato su su Latifi che ha fatto praticamente lo stesso tempo quasi ha un millesimo di stacco ma Albon tira fuori dal cilindro un gran giro e si porta in quindicesima posizione cacciando indietro Kevin purtroppo niente purtroppo siamo fuori anche Darko 2 pessima pessima cosa ragazzi la Haas non ha deluso le aspettative in qualifica la posizione in griglia lascia ben sperare ma che ben sperare tra te siamo tersi ultimi tipo che ben sperare l'Alfa Romeo è riuscita a soddisfare le aspettative nelle qualifiche se si manterrà su questo livello potrà fare un'ottima gara il cielo è coperto di nuvole i team sembrano preoccupati perché potrebbe piovere da un momento all'altro oggi sarà fondamentale saper cambiare strategia in corsa non portava pioggia ma se dovesse venire giù non ci dispiacerebbe talento stiamo a vedere come finirà questo gran premio del Giappone allora diciamo che in qualifica forse avremmo potuto far meglio più che altro per il tempismo nella chiamata che per entrambi i giri abbiamo avuto delle macchine che ci hanno un po' rallentato quindi forse saremmo riusciti a migliorare per il resto ovviamente sono loro a correre quindi ci possiamo far niente Mick pensa che abbia comunque un buon setup pure Kevin c'era un 90% certo non sarà il top però insomma non doveva essere poi così messo malissimo allora vabbè vediamo un attimino cerchiamoci una strategia magari diversa per cercare di tirare su qualcosa di buono quindi partiamo con quattordicesimi e quindicesimi per via anche delle altre penalità di chi aveva appunto penalità in griglia allora lucidà diciamo consigliate sempre le rosse rossa rossa gialla rossa gialla con unica sosta addirittura ma qua arriveremo veramente sui cerchi per qua alla fine medio che per il momento non sembra piove poi sappiamo che potrebbe addirittura ovviamente cambiare in corsa e allora doppia sosta rossa rossa gialla potrebbe essere anche abbastanza aggressiva però se noi volessimo mettere allora vediamo un attimo una bella bianca all'inizio di quelle che dice cavolo voglio fare lunghissime la prima parte di chiara e poi eventualmente vediamo un po' fin dove possiamo arrivare fino al trentesimo giro devo sempre inventare qualcosa con mic quindi potrebbe magari essere buona come cosa se poi dovesse venire a piove insomma non sarebbe affatto male per noi così andremo a perdere così andremo a perdere ok diciamo che con mic andremo verso il trentesimo giro poi montiamo la gomma gialla per la parte finale questa potrebbe essere come come strategia volendo diciamo qua ci mettiamo si a quanto pare non è che sia distante da quella che ci hanno dato loro l'unica cosa di questa è che la fai con due rosse e poi la gialla ma la anzi no era questa fai una rossa e una gialla però la rossa qui devi portarla veramente sui cerchi già sotto il 50% ce la rischiamo abbastanza anche qua finiresti veramente molto al limite quindi proviamo con questa e sono anche tentato di fare la stessa cosa con Kevin onestamente perché ripeto qua comunque le chance sono minime almeno che con Kevin non facciamo qualcosa di più aggressivo con queste qua due soste con rossa rossa gialla magari sul finale possiamo essere un filino più aggressivi se riusciamo magari ad andare un filino più lunghi con con il primo set di rosse sperando che eventualmente una pioggia o qualcosa una safety car ci possa aiutare per per questa storia giua volendo possiamo cambiarla in corso quindi per ora rimaniamo con questa e poi vediamo qua ci dice che ci metteremo un'ora e 23 mentre quella di micchia era 1 e 25 no 1 23 uguale 1 23 25 qua 1 23 27 quindi addirittura più poco più lenta comunque si ha settato 99% con mica eravamo riusciti ad avere una buona percentuale quindi ottimo così ok allora direi che abbiamo fatto tutto ragazzi andiamo a metterci qualche click in più di benzina giusto per potercelo poi sfruttare magari nel finale anzi diamo clic a tutti e niente abbiamo fatto tutto ragazzi direi che possiamo andare in gara allora andiamo oggi si correrà sotto un cielo nuvoloso ma l'atmosfera elettrica come sempre a seguire c'è Kevin Magnussen ieri i suoi tempi erano tra i più alti quindi oggi partirà dalla seconda metà della griglia e schumacher nel ruolo di secondo pilota partirà dalla seconda metà della griglia non sarà facile recuperare tutte quelle posizioni ah ce la metteremo tutta dai ragazzi stanno accettando i semafori 3 e 4 lo spegnimento il via del Gran Premio del Giappone via 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 andiamo su Kevin andiamo a seguirlo magari in bordo l'importante non perdere delle posizioni andiamo subito un po' con la miscela al massimo ora che stiamo attaccati eh nessuna l'ha già passato dai Mick comunque è molto più difficile per lui la situazione siamo tutti molto attaccati cerchiamo di non perdere contatto attenzione Tsunada che si fa già vedere un po' all'interno noi cerchiamo di prestarci attenzione attenzione lui cerca di non sorpasso 130R arriviamo a concludere il primo giro con intanto Kevin in 14esima Schumacher dietro in 16esima Schumacher con gomma bianca quindi bisognerà monitorarlo subito settore 1 bandiera gialla qualcuno forse è andato largo non lo sappiamo Albon che è in difficoltà l'abbiamo subito raggiunto Kevin dannazione dannazione ma pure la planetà c'è da incredibile da incredibile dannazione va proprio preso pieno però Albon che botta che botta cazzo Albon eh lo so dai ritorno a box mi sa safety car infatti safety car per un piste Albon ha già la macchina sfasciata praticamente orello subito safety car ragazzi purtroppo viene convolto il nostro che è in pure sotto scocca scusate allora ovviamente ovviamente apri opzione box componenti a lettone anteriore ok in box in questo giro e aspetta un attimo ho sbagliato no 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 aspetta stavo a cambiare aspetta che cazzo sto facendo opzioni box no 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 che cambia scusa un attimo che cazzo ho aperto io prima la schermata ho aperto quella di di mic no volevo cambiare questa perché ho pure premuto che dovevo cambiare la lettone mi sono un attimo sbagliato non so perché ero andato subito nella pagina di mic componenti auto e noi non ce l'ho più no 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 aspetta che ho fatto una stronzata aspetta si può togliere che non deve punire in tre box e no no componenti auto non togli sta cosa annulla so stai box ok box azioni componenti auto ha detto nello dobbiamo far montare Kevin e già che ci siamo ragazzi montiamo gomma bianca anche per lui si si c'è un conflitto di strategia ma Kevin già sta abicciato dobbiamo fare un'altra strategia vai c'è pure la penità lui quindi rientrerà veramente molto molto lento allora andiamo su conservativa andiamo su equilibrata tanto abbiamo fatto veramente poco e altra cosa che dobbiamo fare dobbiamo cambiare questa quindi aggiungere una nuova elimina elimina qui andiamo a metterci tecnicamente la bianca perché non me la fai cambiare vabbè lasciamola così aspettiamo che lui vada a cambiare e poi eventualmente spero ce la faccia modificare anche qua allora Kevin dovrebbe rientrare adesso infatti Kevin e box sicuramente appena in età quindi i meccanici dovranno attendere per mettere mano alla vettura penso che la faccia adesso sì esatto quindi cinque secondi in cui dovranno attendere ma non c'è nessuno scusami io ho detto pure di cambiare ma che cazzo avete fatto ma scusa una cosa io ho detto di cambiarle le gomme hanno cambiato solo la solo la lettone hanno cambiato vabbè e niente ormai ormai è andata così dai vediamo kevin che riesce magari a rimettersi a paro con metti conservativa con con gli altri vabbè no ma se vede non mi ha preso il cambio gomme non lo so che l'avevo selezionato va bene dai diciamo che se riesce a riavvicinarsi magari con le gomme rosse a parità di gomma cerchiamo di essere un po' più aggressivi e tanto comunque la safety dovrebbe fare penso ancora un altro giro velocizziamo un pochettino ragazzi ok intanto kevin è riuscito ad accodarsi purtroppo subito errore per kevin che abbiamo finito gli alettoni ripeto per fortuna l'avremmo fatti altri due altrimenti sarebbe stato un casino allora andiamo su massimo e andiamo su massimo kevin deve assolutamente cercare di recuperare la primità l'abbiamo saltata shumacher intanto in 14 posizione attenzione vediamo se riusciamo a dare subito una bello strappo qui cercare un sorpasso siamo lontani in verità non proprio una bellissima ripartenza per kevin stiamo veramente perdendo la messa per via di danni gruppo propulsore addirittura l'hersa al 38% telaio sotto scocca insomma non è che siamo proprio messi benissimo già non siamo veloci poi abbiamo pure la vettura danneggiata attenzione qui mi staccata si vede che sono entrati comunque magari in temperatura ora le gomme cerchiamo di avvicinarci ma ah no gliel'ha messo le bianche gliel'ha messo dannazione quando siamo usciti erano rosse non capivo niente gliel'ha messo dannazione allora aspetta un attimo fermi fermi tutti un attimo dobbiamo fare la strategia e aggiungi una strategia e ok abbiamo allungare il più possibile beh magari non tantissimo però al trentesimo si ferma mic e qui andiamo di gialla gialla spremuta al massimo non ce la faremo però così forse si vediamo così fin dove possiamo spingerci fino a qua volendo ok qua in Toria ci metteremo un'ora e ventitré e quarantotto più andiamo giù e più dice che ci metteremo più tempo quindi facciamolo così quindi anticipiamo addirittura con lui la sosta che mic si fermerà intorno insomma qui intorno al trentesimo ventinovesimo giro quindi per il momento va bene così e andiamo dai sembrava strano quando siamo fermati i box e con me erano rosse per quello ho detto ma scusa io l'avevo detto ne fa il cambio perché non l'hanno fatto effettivamente erano bianche quindi ci sta che magari stiamo perdendo un po' più di terreno anche se insomma fette il ciale rosso però vediamo un attimo Verstappen addirittura ci passa come mai è sceso così in basso forse è planetà in griglia non lo so non l'ho visto perché era così basso comunque cerchiamo di mantenerci questa posizione cioè strategia molto diversa per i nostri piloti gli altri sono tutti con le rosse si sono tutti con le rosse quindi vediamo dai cerchiamo di mantenerci il più possibile appunto questa posizione ora c'è il DRS attivo dovrebbe averci lo Schumacher a parte che nel prossimo giro cioè nell'altra parte DRS che se non ricordo male deve essere la curva che porta alla 130R attenzione Schumacher attaccato molto da vicino nell'unica Williams è rimasta sopravvissuta per il momento quella di Latifi mentre Kevin è a mezzo secondo da Fettel gara difficile per la nostra scuderia vediamo se con la strategia alternativa riusciamo a fare qualcosina di diverso no DRS che qua non si è aperto non so se va aperto nel prossimo giro effettivamente vediamo se lo apre qui ora Latifi si ora si purtroppo siamo molto lontani da Zunada attenzione Latifi prova all'interno noi chiudiamo bene e ci teniamo per il momento la posizione stiamo soffrendo ovviamente moltissimo questa questa parte di Chiara io andrei anche un po' più di potenza con le Hertz perché ce l'abbiamo magari riusciamo a fare un po' più di di distacco dai 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 mic cerchiamo di prenderci un po' di margine 7 10 mi 8 no qua non c'è più la parte con il DRS mi ricordavo male c'è soltanto nel rettilineo dei box pensavo pure nel rettilineo quello che porta la 130R invece no c'è soltanto un'unica zona DRS rimettiamolo sul neutro con cui ci siamo un pochettino staccati ma insomma con il fatto che se non riesce effettivamente a uscire fuori dalla zona DRS e poi è un attimo che ti ripiglia infatti si è rifatto nuovamente sotto come se non avessimo appunto utilizzato l'ERS andiamo a vedere un po' Kevin che è alle spalle di Stroll adesso vediamo se con lui con la modalità potenza riusciamo perlomeno a portarci a casa una una posizione attenzione cerchiamo di infilarci ma anche Stroll cerca il sorpasso su Sebastian quindi ci ostacola ora abbiamo il favore del DRS ma molto lenti siamo intanto passa Stroll all'esterno Sebastian Fettel noi dobbiamo purtroppo accodarci nuova posizione conquistata dalla Williams se intanto che passa e guadagna la posizione vediamo un attimo qui stiamo molto minacciosi attenzione che chiude la porta subito Fettel che stiamo stanno lottando ovviamente anche tra di loro e noi non riusciamo ad avere quello spunto vuoi che le gomme decisamente inferiori in prestazioni anche i danni che ha subito Kevin al via insomma non abbiamo proprio la la vettura al top riportiamola sul neutro attenzione qui le staccate molto molto pericolose l'importante è rimanere in zona DRS perché se no insomma rimarremo il fanalino di coda Fettel si riprende la posizione su Stroll ma Kevin purtroppo deve rimanere a guardare intanto Schumacher si riprende la posizione su Latifi grande micchia che cerca comunque con i denti di mantenersi in una buona posizione purtroppo siamo molto distanti da da Zunada c'è un gruppettino c'è un bel serpentone in verità sono un po' tutti collegati e uniti da da Kassli praticamente da Kassli che è il quarto è il primo di tutto un mega serpentone anzi forse Kassli è un po' più distaccato ma da diciamo Bottas e dietro sono tutti attaccati fino ad arrivare a a Tsunada sono veramente tutti tutti attaccati quindi se riuscissimo con Schumacher a riacciuffare qualcuno anche se insomma sono 4 secondi 8 non proprio pochi pochi però se riuscissimo ad avvicinarci con il DRS magari rimarremo lì in scia purtroppo però siamo attaccati sempre da la TV che per fortuna per il momento teniamo dietro e c'è questo punto di stacco tra Schumacher e Schumacher che va dai 4 secondi e 7 4 e 8 insomma giù di lì e non riusciamo a ricucire il gap comunque loro penso che tra non molto dovranno fermarsi quindi andremo a guadagnare qualcosina e la sosta di Schumacher è prevista intorno al trentesimo giro mentre quella di Kevin in teoria dovrebbe avvenire un filino prima dove comunque andremo a montare le gomme gialle attenzione qui minaccioso Kevin che vede là davanti le due attenzione le due Aston Martin cerchiamo un sorpasso al tornantino ma non riusciamo perdiamo un po' di trazione e Vettel guadagna qualcosina andiamo qua davanti sempre la TV attaccato agli scarichi dell'ass di Schumacher e distacco che si alza addirittura a 6 secondi e 2 6 e 3 sta veramente andando molto avanti stiamo forse perdendo qualcosina rispetto a loro infatti ora la TV ci ha passato e sta già guadagnando un pochettino e andiamo se riusciamo a stargli un pochettino vicino per rimanere in zona di RS poi per quanto riguarda il rettilino di partenza siamo lì attenzione bandiera gialla settore 2 che rimane per un po' di rangialla se ne va via adesso testa coda per Pierre Gasly che era l'ultimo del no era attenzione a me è partita malissimo la macchina era quarto o quinto se non ricordo male quindi perde posizioni attenzione qua Schumacher sempre minaccioso sulla Tifi ora con gli RS lo sverniciamo forse all'esterno sì c'è Gasly ora davanti che ha perso terreno per via della dell'errore la classe salita di posizione giusto Kevin che ancora non riesce a scrollarsi di dosso le le Aston Martin qui e Meteo che comunque varia tra nuvoloso a poco nuvoloso ma insomma per il momento pioggia non dovrebbe esserci ne c'è un 35% ma veramente poca roba dobbiamo solo aspettare i pit stop ragazzi non possiamo fare nient'altro che attendere e allora entra un J-Box Gasly con Ricciardo quindi Schumacher si sbarazza un po' della pressione di Latifi alle nostre spalle sono curioso di capire che tipo di gomme monteranno Ricciardo gomme usata con esce con gomma usata e anche no la Tifi gomma è nuova ma Ricciardo con i gasly gomma rossa usata sono quelle del Q3 forse visto che noi ci siamo fermati soltanto al Q2 quindi gomma non molto prestazionale per loro pur sempre rossa ma insomma che comunque non durerà poi moltissimo quindi Kevin sempre dietro purtroppo alle Aston Martin che dovranno penso anche loro fermarsi da qui a breve dato che hanno anche loro le gomme rosse non credo che si fermeranno insieme per il momento non lo fanno suonata i box quindi altra posizione guadagnate per noi e Schumacher che comunque è zitto in undicesima posizione ma vi ricordo che dobbiamo ancora effettuare la nostra sosta attenzione bandiera gialla nuovamente al settore 2 se ne va via subito quindi un errore Joe bloccaggio in curva 10 al tornantino e va lungo e va a sbattere ma non va a rompere l'ala mi pare quindi comunque va a perdere terreno ancora bandiera gialla al settore 2 per un attimo subito tolta attenzione siamo nelle griffe di Sainz ecco perché si è avvicinato Schumacher e si va molto largo sembrava strano che ci eravamo molto avvicinato alla Ferrari di Sainz davanti a noi quindi abbiamo addirittura la possibilità di usare il DRS Sainz che ha già fatto il pit stop si fermano intanto in tronco moltissimi piloti Emington Verstappen Norris Alonso Bottas e HF si è fermato quindi ricapitolando abbiamo Schumacher in sesta posizione che per un attimo abbiamo tallonato la Ferrari di Sainz e Kevin in ottava sempre a lottare con Stroll che si fermerà sicuramente in questo giro visto che prima si è fermato Sebastian e dietro di lui però abbiamo Hamilton Verstappen e Richard insomma stanno arrivando anche i big con gomma gialla alcuni ok alcuni hanno montato gomma nuova gialla attenzione intanto si fermano anche Greg Joe e Russell e Stroll che non si ferma e Kevin che riesce finalmente a scrollarsi di dosso grazie al DRS stanno arrivando anche tutti gli altri vediamo qui davanti Mick in quarta posizione quello messo peggio ovviamente è Kevin perché ce li ha tutti dietro Verstappen intanto fa fuori Stroll noi cerchiamo non so in che modo di poterci difendere ma ovviamente non abbiamo assolutamente la macchina per farlo macchina anche danneggiata attenzione Verstappen che si fa vedere da tutte le parti ci sorpassa ora in accelerazione all'esterno e passa Verstappen che purtroppo deve lasciare scorrere Latifi intanto allarga la traiettoria e Schumacher ancora in quarta posizione a quasi sei secondi da Verstappen che sta risalendo veramente molto molto velocemente purtroppo ora Kevin sarà nelle grinfie di tutti gli altri mentre Strollo ancora non si è fermato quindi forse un'unica sosta per lui e sta tenendo dietro Hamilton che comunque ha gomme sicuramente nuove e gialle e non riesce a passare Strollo per il momento quindi buono per noi perché riusciamo a respirare un pochettino e anche a guadagnare un po' quindi non è male davanti si sono ovviamente tutti fermati gomma gialla per loro gomma gialla che monteremo anche noi ma ancora qualche giro infatti Mick si fermerà tra sei giri circa mentre Kevin tecnicamente dovrebbe avercela tra poco perché non mi ha salvato mannaccio ah perché non l'ho selezionata giustamente ok ok l'avevo fatta ma poi non l'ho salvata credo che non mai si visualizzava qua comunque tra cinque giri in teoria Kevin allora famo una cosa visto che tra cinque giri ci fermiamo possiamo anche dare un pochettino più aggressivelli sulla gomma su Shumi Koshimaka no intanto sta arrivando Verstappen già un secondo e cinque lo vediamo là dietro minaccioso poi abbiamo Kevin che comunque è un po' più distante quindi vediamo dai vediamo come come va sta arrivando Verstappen subito con il giro veloce e il DRS noi ci cerchiamo una difesa per il momento siamo davanti ora nel settore 1 guidato lui ci sta veramente molto molto attaccato sicuramente si infilerà qui all'interno no attenzione minacciosi minacciosi sicuramente qui avrà una migliore trazione noi proteggiamo l'interno Schmacher cerca in tutti i modi per il momento Verstappen non riesce a passare sicuramente lo farà ora sul rettilineo dei box con il DRS vediamo spalanca l'ala e ci passa ovviamente all'interno e dobbiamo desistere però insomma l'abbiamo tenuto dietro un giro intero mentre qui Kevin purtroppo ha dovuto far passare Hamilton dietro sta arrivando anche Ocon stiamo comunque su strategie differenti rispetto a tutti gli altri il problema è che quando Kevin si fermerà scenderà moltissimo ci dai una previsione in che posizione dovremmo rientrare no ritira l'auto no se non ricordo mai ce lo diceva da qualche parte finestra andare a guardare effettivamente mi ricordavo che ci dava una stima più o meno della posizione forse è stata sbagliata con formula 1 non lo so però comunque perderemo un bel pari tempo anche perché gli altri sono un po' tutti attaccati allora intanto Schemacher è ancora in quinta posizione sta arrivando Hamilton di gran carriera tre giri ancora prima della nostra sosta purtroppo dobbiamo aspettare fermarci prima vorrebbe dire poi consumare molta gomma certo ci fosse una safety car o qualcosa non sarebbe affatto male nessuno che stava schiantato da qualche parte no no anche perché chi ha le rosse poi sicuramente farà un'altra sosta questi chi ha le gialle sicuramente non lo farà quindi per loro sono sono a posto così si fermeranno appunto soltanto chi ha chi ha le rosse intanto Korn passa Kevin ora sta arrivando anche tutti gli altri purtroppo direi che possiamo fermare subito Kevin gomma gialla nuova per lui quindi veramente dai dai tutto vabbè lasciamolo così attacco mi sembra eccessivo settore 2 bandiera gialla attenzione che rimane un po' se ne va via subito peccato c'è stato un bloccaggio in pista bloccaggio di Latifi vabbè non ci interessa attenzione qui ai Russell la stacchiata si porta avanti noi però dovremmo entrare box ok quindi ovviamente entrano tutti scaliamo praticamente ultimi Schemacher ha il dato alle prese con Hamilton che si sta facendo minaccioso Schemacher anche lui pensa che lo vedremo in questo giro in questo giro box in questo giro e via ma Kevin ritorna su standard perché se no non ci arriviamo ok Kevin purtroppo esce in diciottesima posizione probabilmente la sosta la dovevamo fare Hamilton intanto ci svernicia all'esterno anzi all'interno e no all'esterno giusto giusto e niente pit stop per Schemacher vediamo un po' a prendere una volta usciti ma penso che scaleremo quanti ne ha scalati eh sì Kevin vai perché comunque sono un po' tutti attacchiati il stop abbastanza veloce 3 secondi e 3 più di così non potevamo fare eh peccato però vediamo se riusciamo intanto andiamo un po' su accumulo qua che Kevin sta un po' morendo con l'herz vediamo un attimino quanti ne abbiamo con gomma rossa ce ne sono 5 davanti a noi eh certo superati Toraukon sarebbe il top però perlomeno eh Latifi sicuramente lo passiamo non penso che ce la faccia ad arrivare Gasly pure tra poco si fermerà eh Strullo ha cambiato i gomma sì che ha fatto veramente un unico stinta con la gomma rossa veramente un pazzo però sono quelle cose che si cercano ovviamente per cercare di guadagnare il più possibile speranzosi magari in una safety car o virtual safety car che comunque vada a favorire il la propria strategia ovviamente quello che abbiamo sperato anche noi ma che purtroppo non c'è stata se no una safety car all'inizio ma che insomma è stata abbastanza inutile se non causare danni alla vettura di Kevin quindi vedremo dai allora intanto la gara non è tutt'altro che finita insomma siamo al 29esimo dei 53 giri se riuscissimo a riavvicinare il gruppetto magari Kevin può pure rimettersi su un'eutro ora siamo siamo comunque vicini a stroll cazzo dice questa regia l'abbiamo già fatta cazzo si è rifermata un'altra volta abbiamo già presa la posizione attenzione Kevin va deciso a prendersi la posizione su Vettel e cerchiamo ora di scappar via davanti c'è il proprio compagno di squadra Schumacher che ha due secondi da Latifi Latifi con gomma rossa ma abbastanza usata e poi da Latifi a Joe ci sono 11 secondi quelli già sono un po' più lunghi da andare a recuperare Joe entrambi con le gomme le due Alfa Romeo entrambi con le gomme gialle poi c'è Richard con la gomma rossa scusate che dovranno sicuramente fermarsi stanno al 48% quindi forse qualcosina da loro riusciremo a recuperarle intanto cerchiamo di avvicinarci il più possibile a Latifi vediamo se Kevin è riuscito eh non tantissimo a scrollarsi di dosso Vettel comunque con gomma gialla anche lui un pochettino più usurata rispetto a noi però insomma sta tenendo il ritmo intanto qua siamo arrivati nei pressi di Latifi stiamo sotto al secondo quindi zona DRS per noi che utilizzeremo sicuramente qui sul rettilineo dei box vediamo se riusciamo a portare l'attacco direttamente alla staccata di curva 1 DRS per noi ci scartiamo all'interno e passiamo ottimo così ottimo soppasso e ora vediamo se riusciamo a scappare Latifi per il momento rimane dietro di noi dobbiamo cercare di guadagnare quel tanto che riusciamo a portarci magari fuori dalla zona DRS vediamo se possiamo magari andare un pochettino sulla difensiva questo per avere quel margine appunto 6 decimi che se ci ribeccar DRS in sul rettino dei box poi in casino non ce lo scrolliamo più 8 9 dai prima della 986 no ce l'ha ci avrà il DRS anche anche lui e infatti ce l'ha è lontana ma comunque ce l'ha ritorniamo sul neutro cerchiamo di tenerci un pochettino di hertz Kevin comunque è riuscito a scrollarsi dosso Vettel stiamo comunque lottando quelle zone basse e ancora non si sono fermati i piloti con la gomma rossa attenzione paniera gialla che si è subito tolta qualcuno ha allargato la traiettoria vabbè stava dietro di noi quindi niente di che e vediamo un attimo 9 secondi e 6 intanto da Ricciardo che si sta fermando ora i box infatti si sono fermati insieme i piloti che avevano messo la gomma rossa usata anche la Tifi si è appena fermata quindi guadagniamo le posizioni anche su Okan che stava uscendo adesso dalla corsia di box penso che abbiano rimesso le gialle ora eh sì Okan a montare gialla tutta gomma gialla c'è solo Gasly davanti a noi che deve ancora fare la la sosta anche lui con la rossa usata quindi si fermerà e ora bisogna prestare attenzione perché Okan ovviamente ha una gomma un po' più fresca della nostra macchina sicuramente migliore quindi sarà una bella notta purtroppo siamo molto distanti da da Bottas e da Joe che comunque anche loro hanno le gomme gialle quindi difficilmente entra Gasly adesso quindi posizione guadagnata anche su Gasly Kevin forse riesce a prenderla anche lui sì Kevin però si deve cercare di difendere la zionata che si infila all'interno riesce a passare settore 1 a bandiera gialla è un testa coda testa coda e leclerc attenzione in curva 15 ecco leclerc settore 1 e settore 3 come cazzo ha fatto ha fatto ormai la curva e quindi leclerc va a perdere addirittura no non va a perdere ancora la prima posizione però insomma stava da solo sto testa coda in mezzo alla chicane non è proprio il top perdiamo invece posizione a favore di Gasly che anche lui ha comunque gomma decisamente più fresca più nuova magari anche già più aggressiva per cercare di passarci andiamo un po' modalità sorpasso non dobbiamo assolutamente perdere il ritmo su di lui dai ora col DRS forse riusciamo proviamo il sorpasso ci lascia all'esterno ma ovviamente non riusciamo a chiudere a luogo questo sorpasso ricordiamo Kevin comunque ma vettura molto danneggiata per via dell'incidente nei primissi giri science ai box attenzione di gomma rossa per lui strategia particolare che va a montare la gomma rossa nel finale dell'ultimo tratto gomma usare addirittura settore 2 bandiera gialla attenzione bandiera gialla a chi rimane per un po' sarebbe un bloccaggio e vabbè la Tiffin non ci interessa spero sempre qualcuno magari davanti a noi attenzione Schumacher ora si deve vedere da Okan che si è rifatto sotto qui andiamo per una zona neutra purtroppo abbiamo poco Hertz per poterci difendere sarà molto molto difficile Okan si fa subito vedere all'interno all'esterno cerchiamo di ovviamente fare spalle larghe chiudi chiudi vai vai in trazione subito stiamo lottando per un'undicesima posizione però insomma Peres anche i box quindi i bicchi penso facciano la stessa strategia montando poi nel finale una gomma rossa anche se usata a quanto pare eh sì 86% sarà che usata attenzione qui di RS RapperoCon cerchiamo di proteggerci all'interno gli lasciamo all'esterno ma non riesce a concludere il sorpasso Conno quindi per il momento rimane dietro purtroppo stiamo perdendo veramente tempo su Norris che è in decima posizione peccato e sono comunque con le gomme gialle e qua davanti anche i primi due si stanno fermando settore 1 pegnerà gialla subito tolta quindi qualche qualche lungo un'auto è appena andata larga Fettel infatti attenzione non è che si fermano di nuovo perché Russell pure c'ha il 59% di gomma quindi si vede che hanno spinto molto infatti si stanno fermando tutti inventando le rosse usate attenzione che qui di posizione ne guadagniamo un po' adesso attenzione Conno di nuovo all'esterno ci svernigia però per il momento noi saliamo in nona posizione dovremmo prestare attenzione perché qua ora hanno tutti le gomme rosse seppur usate ma comunque rosse quindi prestiamoci attenzione Kevin comunque risale in dodicesima posizione addietro Joe che anche lui si è fermato per montare gomma rossa vediamo dai finché abbiamo Alonso dietro magari ok che Joe avrà il DRS ma anche il nostro Kevin forse riusciamo a a tenerlo dietro forse ripeto siamo al 39esimo dei 53 purtroppo non possiamo spingere più di tanto quindi dobbiamo cercare di difenderci anche Bottas rientra in box esce ma che sale in ottava posizione attenzione qui la lotta si sta facendo molto interessante lo so stiamo facendo un po' da tapp in verità l'ersus si sta sarendo l'ho spinto un po' troppo c'è ragione hai ragione hai ragione però stavo cercando di difendermi da chi ci sta attaccando pensavo fosse qualche incidente qualcosa attenzione qui siamo lontani però dal DRS di zionata quindi siamo vulnerabili poi sul rettilino dei box anche qui sicuramente il rettilino che parto la 130R ci proteggiamo all'interno anzi a centropista teniamo la posizione attenzione zionata che si infila invece su su Joe e Joe all'esterno che ci svenisce ci prova anche zionata e ci passa sta arrivando anche Norris di gran carriera purtroppo per noi dobbiamo difenderci in questa maniera non possiamo assolutamente permetterci di fare un'altra sosta malgrado penso che lì brutta abbiamo addirittura una comba rossa nuova volendo da usare non lo so sarebbe veramente un azzardo comunque 41 dei 53 attenzione no non posso andare su aggressivo attenzione invece Schumacher alle spalle Russell o proviamo veramente qualcosa di differente con Kevin proviamolo ragazzi tanto comunque con Kevin stiamo fuori dalla zona punti proviamo un attimo gomma rossa nuova ce l'abbiamo proviamo a usarla e vediamo che riusciamo a fare mentre stiamo attenti qua che intanto Schumacher ha perso posizione su Hamilton no su Russell scusate Alonso per il momento è a 3 secondi a 7 quindi ancora un po' lontano sosta e box intanto per Kevin vediamo tanto comunque stavamo abbastanza bassi non è che è cambiato moltissimo però magari con la gomma russa possiamo andare un pochettino più aggressivelli sperando che non faccia errori vediamo qua davanti invece Schumacher per il momento mantiene un'ottava posizione ottima visto insomma come eravamo partiti sarebbe veramente oro con lui ovviamente non rischio la sosta sarebbe assurda come cosa dietro si stanno un po' difendendo Alonso e Zunada sarebbe buono per noi per riuscire magari a guadagnare qualcosina dalla loro lotta ma insomma Alonso già si è portato sotto ai 3 secondi Magnus è purtroppo poco verso dannazione dovremmo farci magari un giro in accumulo per vedere un po' come se riusciamo a guadagnare qualcosina se arriviamo che ce l'abbiamo e perdiamo un pochettino di di spunto 2 secondi e 3 stanno arrivando sia Alonso che Zunada poco di ero c'è Joe i giri che mancano sono 10 ci vorrebbe una safety car adesso per dire quando deve uscire magari non esce una virtual safety car qualcosa si soffre ragazzi purtroppo non posso spingere molto con le gomme arriveremo veramente al limite quindi non posso aumentare il ritmo devo lasciarlo così c'è poco da fare stiamo anche finendo un po' il carburante in eccesso attenzione la sempre tra Alonso e Zunada che si sono portati a un secondo e 5 stiamo perdendo veramente tanto malgrado loro abbiano oddio Alonso 69% di gomma rossa quindi può spingere benissimo fino alla fine Kevin che è a 3 secondi e 2 da Latifi ovviamente è stato un azzardissimo quello di Kevin non è che se non ci fossimo fermati sarebbe andato meglio comunque stavano arrivando un po' tutti quanti eravamo anche fuori dalla zona punti quindi va bene pure così rimettiamolo sul neutro e andiamo a vedere un attimo qui che Alonso si è portato già a 4 decimi c'è Schumacher che si deve difendere bloccaggio si sono presi si si sono presi bloccaggio di Zunada che va a colpire Alonso perennità appunto per Zunada bandiera gialla ma comunque non ci sono safety game e niente rivediamo di Alonso Zunada che cerca un cerca la staccata va al bloccaggio va a colpire Alonso ci fa guadagnare un pochettino di 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 vantaggio assolutamente su Joe che intanto guadagna pure due posizioni lui ringrazia e va via ma insomma dietro Gasly si è rifatto di nuovo minaccioso e Alonso dietro comunque non vuole starci anzi è molto più cattivo ora che ha subito addirittura il torto quindi attenzione 45 dei 53 qui volendo potremmo pure andare all'attacco sperando che Kevin intanto non faccia danni ci prendiamo una posizione su Stroll Latifi ha un secondo e 100 mentre qua Schumacher siamo al 54 per cento di comba dobbiamo cercare di resistere assolutamente Joe è a un secondo e otto il problema è che si porta dietro un sacco di vetture quindi se ci passa uno poi sarà un casino peccato per quello che ha fatto vedere Mick con una strategia molto strana diversa assolutamente rispetto a tutte quelle degli altri con gli altri che addirittura montano la gomma rossa poi sul finale usata ma comunque l'hanno montata pur di avere quello spunto in più come stiamo a gomma è giusto al 61 sono tutti messi meglio rispetto a noi tranne Alonso ma comunque è una gomma rossa lui attenzione Joe già quasi sotto al secondo 8 decimi Magnus che passa pure Latifi ma ormai è lontano 13 secondi da Ricciardo peccato stiamo comunque spingendo a bestia dobbiamo mettere benzina equilibrata attenzione qui dobbiamo dobbiamo difenderci forse non è stata una buona idea però attenzione gioco il DRS chiudiamo l'interno chiudiamo l'interno purtroppo ora si stanno accotando tutti dannazione usciamo dalla zona punti se ci passano tutte e tre ovviamente attenzione qua dai 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 spero che non ho lavata ad utilizzare tutto DRS attenzione qui guadagniamo quel pochino che ci potrebbe aiutare ma purtroppo chi ci difende poi dal DRS sul dritto del direttino dei box andiamo sul metro qui attenzione ci proteggiamo all'interno suonata intanto ci svernicia all'esterno e perdiamo la posizione ora c'è Gasly che si fa minaccioso l'Alfa Romeo guadagna una posizione lo so attenzione siamo al 49esimo dei 53 cerchiamo di dare un filino più aggressivi sulla gomma Gasly che si infila al tornantino altra posizione persa vediamo se Scema che riesce ha un controattacco proviamo una traiettoria più in terra attenzione forse uscito male Gasly settore 2 bandiera gialla subito tolta attenzione qui staccata mamma mia che tremino strolla che è andato largo ma pazienza ora tutti i cordi RS Scema che prova all'esterno riprende la posizione ma poi fa un filino largo attenzione dai 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 l'importante è rimanere ci ha attacchiato se perdiamo il DRS siamo fottuti già 5 secondi 6 secondi da Gasly ci difendiamo qua all'interno al tornantino Alonso si fa minaccioso attenzione carburante beh sta tranquillo che sta in linea la prendi i corpi è tutto in linea vai 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 purtroppo siamo senza DRS ora Gasly ormai se n'è andato e siamo nelle grinfie di Alonso dietro Bottas e Norris peccato cinquantesimo dei 53 previsti dai 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 Mick purtroppo stiamo pure a corto di Herz Alonso che tenta il sorpasso col DRS e non ce la fa dai 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 nuovo giro per noi e nuova possibilità di rimanere in questa decima posizione siamo aggrappati con tutto quello che abbiamo ma cercheremo di vender cara la pelle spero senza fare errori sono in tre per la nostra decima posizione dai 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 Mick dai ormai gli ho dato aggressivo sulle gomme non risparmiamo assolutamente niente Gasly c'è bello che salutare due secondi e tre ci proteggiamo all'interno Alonso comunque non c'ha quello spunto per passarci vediamo un po' qui sul dritto di nuovo proteggiamo l'interno lui col DRS proteggici ma mamma mia siamo messi oh tensione mamma mia è arrivato Bottas che va a passare anche Alonso sono affiancati i due si è svegliato anche Bottas attenzione in lotta sta qua dietro mamma mia chi sbaglia la staccata fa strike settore 2 bandiera gialla subito tolta qualcuno che sicuramente ha fatto qualche lungo qualcosa Norris via 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 mamma mia Bottas che sei un attimo rinvigorito sul finale 52 di 53 penultimo giro Schumacher resisti 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 dai 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 riandiamo su benzina al massimo per quest'ultimo giro sì dai e Alonso rimane dietro Alonso che non è riuscito penso che abbia pure lui le gomme ormai belle consumate 32% noi 36 finiamo al photo finish praticamente Kevin qui vabbè ormai sta a fa gara da solo quasi doppiato da Leclerc ma andiamo a vedere qua davanti Schumacher attenzione abbiamo guadagnato qualcosina in trazione su Alonso che forse sta soffrendo un po' di gomme attenzione 7 decimi dai 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 che abbiamo quel margine per portarcelo a casa 7.02 bandiera gialla non ci interessa guardiamo qui davanti però guardiamo qui davanti l'ultima curva e va no vincere arriviamo sul traguardo no che cazzo c'è un altro giro aspettate perché eravamo quasi doppiati dall'azione non è finita ancora si soffre si ok bravo per lui dai 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 Kevin vediamo scacchi per Magnus che comunque era stato doppiato tensione qui invece si soffre ancora si soffre Alonso a due decimi tensione l'ha staccata qui andiamo su equilibrata che se no ci consumiamo tutta la gomma qui però in trazione abbiamo molta più un vantaggio cinque decimi che forse possono servire mentre Alonso si deve difendere addirittura da Bottas tensione qui 130R per noi arriviamo alla staccata con sei decimi di vantaggio e Schumacher tiene una decima posizione grandissimo Mick grandissimo mamma mia con i denti veramente se siamo fermati è finita la benzina è finita la benzina poco prima del cioè poco dopo il traguardo per fortuna si è bloccata l'astro di Schumacher sperando di una più ripeternità perché non abbiamo riportato la macchina al box ma penso che sia addirittura questa questa cosa quindi decima posizione è veramente ottima mi dispiace per Kevin per l'errore che abbiamo fatto cioè che ha fatto lui Arviene che abbiamo fatto non è che guidiamo noi però che ha fatto al via alla strategia forse con lui qualcosa in più forse l'avremmo guadagnata comunque ottimo così tutti hanno guadagnato una fracca beh Verstappen partiva molto dietro ma ci sta Hamilton Puro Conor Rass insomma tutte macchine che hanno guadagnato un bel po' di posizioni senza addirittura addirittura ne ha perse tre ottimo così ragazzi bravo Mick bravo Mick fiducia ancora in più sul fatto che abbiamo richiesto il rinnovo del del contratto per un altro anno non sappiamo se l'abbia accettato o meno speriamo di sì mentre in classifica piloti c'è Verstappen ancora primo con Leclerc in seconda posizione quindi penso che sia ancora tutto da giocarsi il campionato Kevin mantiene la decima posizione mentre Mick in quindicesima insomma rimane comunque stabile mentre i costruttori la Ferrari guadagna una posizione ai danni della Red Bull con un punticino e tutto il resto rimane invariato con l'Alfa Romeo che si distacca un pochettino da noi perché comunque ha preso quattro punti e noi uno solo però diciamo che siamo ancora lì anzi se siamo abbastanza distaccati quindi difficilmente riusciremo a passarli almeno che non riusciamo a fare qualcosa di assurdo nelle ultime gare che riusciamo insomma a guadagnare un bel po' di punti però staremo a vedere difficile ma non impossibile direi quindi cerchiamo di prestare attenzione vediamo di rimanere comunque concentrati allora andiamo su continuo vediamo un po' se qualcuno ha preso qualche punticino sì Kevin è riuscito a guadagnare qualcosina e purtroppo perdiamo qualcosa per quanto riguarda i sponsor perché comunque qualifica è andata tutt'altro che bene la questione quindi va bene così che succede qua perché è riusso che vale scusa contratto di scadenza sì io l'ho già fatto il rinnovo in verità allora un attimino Kevin c'è il punto sviluppo lo andiamo a mettere sulla difesa che sta veramente un po' carente allora ragazzi velocemente andiamo a vedere le mail vediamo se c'è magari una risposta vabbè qua ci dice raffreddamento fene questo lo sappiamo già e dishmacher la sterzata una gara difficile una brutta giornata questo secondo il consiglio segreto sono rimasti tutti delusi alla prestazione ammazza ok che vi aspettavate delle posizioni migliori però porca trota abbiamo fatto un rimontone eravamo ultimi praticamente siamo arrivati addirittura a punti cioè non so vabbè e beh questa è la panoramica delle cose voglio giusto vedere un attimo se ci dà no non ci dice niente per quanto riguarda i contratti vabbè poi lo vediamo ragazzi perché comunque per il prossimo gran premio mancano ancora sette giorni saremo nel circolo delle americhe a cota secondo me sarà un po' difficile per noi tracciato molto tecnico il settore centrale il rettilineo molto molto lungo da velocità elevate quindi vedremo potremmo forse avere qualche problemino per quanto riguarda la nostra vettura più che altro non stiamo centrando l'obiettivo stagionale che è sesto migliore perché sono scese in settima quindi dobbiamo cercare di dare una svolta non siamo lontanissimi dall'Alfa Romeo ma se non iniziamo a dare veramente una svolta non riusciremo a passare insomma so 22 punti insomma non è che so poi così così pochi vabbè vedremo allora ragazzi io come sempre vi ringrazio fatemi sapere insomma che cosa ne pensate spero che insomma abbiamo fatto del nostro meglio non so se ci poteva essere un'alternativa o qualcosa in base alla strategia o magari la condotta di Chiara purtroppo siamo stati sfortunati che la safety di Chiara siamo stati noi diciamo a causarla e nelle prime battute di Chiara insomma avrebbe potuto comunque causare noi però magari più avanti col secondo di poi sarebbe stato forse una gara differente comunque ripeto prestazione assolutamente positiva per per Mick mi fa piacere insomma che abbia tirato fuori gli artigli soprattutto negli ultimi giri quindi vedremo assolutamente nel prossimo gran premio io di nuovo vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao